Tu sei bravo a cucinare? Mi piace mangiare ma non cucinare Ina doveva partire e non voleva perdere l'aereo Sì, va bene, benissimo Mmm, di ripetere sempre le stesse cose noiose Quale sarà il verbo? Fianzala Fianzala, quindi significa smettila di dire sempre le stesse cose Dobbiamo dire altre cose? No, sono sufficienti questi Non sono sufficienti